La scuola di Amici Callive e divertimento dove i protagonisti sono i ragazzi, e le loro famiglie, che quest'anno si tiene a Mirabilandia, il parco divertimenti situato alle porte di Ravenna, organizzato da Nickelodeon, il brand per ragazzi e famiglie presente in esclusiva su Sky, Canale 605, di Diacom International Media Networks, Italia. Slim EFest 2018, il cast e gli ospiti annunciati stanno preparando un P.O.M.E.R.I.G.G.I.O., pieno di slime e sorprese. . 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